Intro Hi people of youtube Welcome back to a new episode of Scarlet Nexus A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata La scorsa puntata ci siamo lasciati con la nostra prima grande sconfitta Di un estraneo bello grosso E abbiamo guadagnato un bel po' di punti esperienza Abbiamo 4 punti da poter utilizzare Quindi vediamo che cosa possiamo apprendere Attacchi con arma 5% oppure aerei ricaricano maggiormente la barra psi Ok, non sarebbe male questa Non sarebbe male per le combo Apprendere questa abilità aumenterà il valore della barra psi Ok, ok Gli attacchi con arma possono ridurre notevolmente la barra dell'annientamento Cos'è la barra dell'annientamento? Premere quadrato dopo una schivata perfetta attivare l'abilità di attacco con l'arma Ok, questa sembra interessante e utile da usare Allora, per adesso Perché probabilmente aumenteremo di livello tra un po' Io prenderei un altro plugin Perché sembra abbastanza utile da averne un altro Tanto non penso ci metteremo molto a risalire di livello Quindi a questo punto Vediamo se funziona anche sul compagno o no Sul compagno o no Va bene amico Torniamo in città Ah, anche lui ha fatto qualcosa di grande Sì, è proprio lui Volevi andarci anche tu, eh E' zunderino lui Oh, grazie Kasan Ottimo Sì, signora Ah, guarda Li sono appena tornati anche loro Oh, ci ha già sentiti, eh Non ti frega proprio niente di te Yuito Ehi Yuito, l'altro Esatto Ah, grazie Tutto bene Capitano Seto Non so perché sembra Non lo so, sembra tipo Mi puzza sto tizio per qualche motivo Non so perché Seto un po' mi puzza Sì, abbiamo capito A te succederà qualcosa di brutto Dai, lo sappiamo Porca miseria Si concentrano troppo su di lei Ecco, ti pareva Che saranno sicuramente Yuito e qualcun altro Sentiamo In che senso? No, intendo prima Ecco esatto Forse lui sa qualcosa della nostra backstory Forse lui sa qualcosa del nostro passato Chissà perché Guardalo lì che fa tutto Tutto il pensieroso Il tenebroso Io sono qui Di fianco agli altri Non sto con loro Ah ok Pensavo che lo schermo che si era glitchato Era qualcos'altro Sì, abbastanza Ma lei è con me ora? Ah sì, è con me Oh, che bello Questo? È una missione? Sì, è una missione E così tu sei la recluta migliore di quest'anno Deve essere bello Saper che tutti gli istruttori ti hanno notata Perché non mi fai vederli che pasta è fatta la caretta migliore? Vediamo Recupera dei dati per me Wow È più facile delle prove a cui sottopongono i cadetti, vero? Stammi bene a sentire Non si tratta di nonnismo È solo una richiesta E ci darebbe un plug-in Va bene Non mi piace il modo in cui mi guardi Ma fa pure Comunque questo posto brulica di estranei Quindi fai attenzione Ma che davvero? Dove sono gli estranei? Scusami Ah, lei c'ha la duplicazione E beh, a sto punto scusami Bello, c'ha le balestre lei Già mi piace Ah, l'avevo già completata Perfetto, grazie Amico di tutti Ah, mi aveva richiesto uno di quei dati Che avevamo trovato in giro nell'altra mappa Ah, era una cavolata Ok, torniamo alla missione Eccoci arrivati Chi è sta tizia? Non lo so ma è carina Kodama melone Questo è vero Mi piace stare con lei Mi sa tanto di Akechi Questo tizio Eh, esatto Perché ti scusi tu Vabbè, se ti senti responsabile E questo è vero Aicolo, anche cosa che c'è Il rischio Beh, c'è Bello Non credere Ma Non vece Sì signore Sì signore Sì signore Sì signore Sì signore Sì signore Non l'avrebbe detto chiunque, no? Vabbè, se gli fa un complimento allora va bene tutto, no? A parte che lei è... Sono tutte carinissime in questo gioco, eh? Penso che farò una missione di eliminazione, allora. Una chiamata? Ah, così senza voce proprio. E lei no, invece? Ecco, ti pareva. Tu no, sei a casa. E perché lei sì e io no? Siete cattive con me. Ok, ho capito. Ecco. Va bene, capo. Andiamo. È stata giunta la mappa del mondo. Sì, tranquilla. Vado io. Nuova zona, livello inferiore. Ok. Kikuchiba. Si va. Do cacchio siamo. Città commerciale deserta. No, sai che credo che i fili in realtà siano una roba esistente, cioè sono una roba fisica. Benvenuto a bordo, Casane. Sono contenta di combattere insieme a te. Capisco bene quanto Naomi sia importante per te, ma cercare di non perdere vista la tua sopravvivenza. Grazie. Spero di salire presto di livello. Almeno prendiamo già un'altra abilità. Sì, ma è proprio una città deserta. Si sa come mai. Ah, grazie dell'aiuto. Ecco fatto. Che bella che è la duplicazione. Sono sicuro... Allora, sono sicuro che la duplicazione sia un'abilità rotta, ma sicuramente nerfata. Quindi dovrei aumentare di tanto il suo rapporto con lei. Ma secondo me la duplicazione come abilità... Madonna mia. Sarà sicuramente una delle migliori in assoluto. Dove? Eccolo, grazie. Eh, niente male. Me l'hai detto tu che c'era l'oggetto. Uh. Ok. Madonna mia. La duplicazione che fa è sicuramente utile. È sicuramente utile. Cioè, la possibilità di sparare più colpi o attaccare più volte con la stessa arma. Oh. Da dove sei uscita? Annientamento neurale. Un attacco che colpisce il punto debo di un nemico lo abbatte in un colpo solo. Consumando la sua barra di annientamento sotto quella della salute, appare nella schermata di un icona con i premi L2 per eseguire un annientamento neurale. Ah, è un attacco speciale. Ok, va bene. Beccati questo. Vai, DR. Vai, DL2. È la nostra mossa finale, insomma. E siamo saliti di livello. Yes. Oi, oi. Calmati. Calmati. Mi ha divertito molto, devo essere sincero. Mi ha divertito molto il fatto che... Che lei ci ha attaccato e non gli abbia lanciato il coso in faccia. Grazie. Dov'è? Ah, pensavo ci fosse un altro nemico. Però lì c'è un oggetto. Grazie. Allora, siamo saliti di livello. Quindi, con quattro punti, io prenderei questo qui. Sì, anche perché è il 5% di danno in più utile, sì, ma 5% sempre è. Raccoglie automaticamente gli oggetti nelle vicinanze. Utile, ma non da sprecarci tre punti. Ecco fatto. Altro oggetto anche qui. Grazie. Che tanto sono tutti quanti i dati che poi ci richiedono probabilmente per missioni secondarie. E quando mai ti sbagli? Ma la nostra profe... Ecco, appunto. Stavo per dire. La nostra cara responsabile... Dove cavolo era finita? Scusa? Duplicazione... Sì, grazie. L'abbiamo già usata la duplicazione. Oh, che male. Scusami, ero distratto. Punti deboli protetti dagli scudi. Ok. Ok. Allora, primo... Sarei tu il mio obiettivo, allora. Beccati questo. Ecco fatto. Niente più scudo. La psico-cinesi mi... E non lo vedo. Annientamento. Uuuh, la madonna. Sì, che crudeltà immane. Che cattiveria incredibile. Beccati questo. Ecco fatto. Grazie. Ottimo. Distrutta. Ma quei triangoli sulla mappa, in teoria, sono oggetti speciali, no? Che posso usare per annientare i nemici, no? Oppure sono solo vie chiuse. Ah. Non lo so, però intanto qui c'è un oggetto... Che non posso raggiungere. Perché basta che vado dall'altro lato. Wow. Che... Che grande level design. Va bene, no, dai. Questo ci stava. Eccoci qua, proseguiamo. Sì, è molto probabile. Ah, il tizio che salva. Beh, sì. Effettivamente la nostra sorella sembra abbastanza deboluccia. Eh, lo so, lo so. Vediamo se hai qualcosa di nuovo. E facciamo anche un salvadaggio. Altri nemici, ovviamente. Vediamo. Ok. Questo... Ha fatto sinceramente male. Questo ha fatto sicuramente male. Ecco qua. Tizi che lanciano... Palle di fuoco. Ecco qua. Allora, a livello di design i nemici ti dirò che mi piacciono. Mi piacciono comunque. Sono fatti... In modo strano, ma comunque... Non brutto. Altro oggetto da prendere. Beccati questo. L'attacco ventilatore qui è potentissimo. Ecco fatto. Prendiamo gli oggetti. E prendiamo anche questo. Ah, siamo dall'altra parte di dove siamo arrivati. Ok. Proseguiamo. Ecco, ti pareva. Chi è? Kagero. Ah, ok. Kagero donne. Cos'ha? Uno spadone? Sono dei pugnali. Sì, mi sa che è un pugnale. Ah, è un coccodrillo. Ok. Va bene. Un altro combattimento grosso. Invisibilità. Prendendo in prestito l'invisibilità e svanendo i nemici non ti individueranno. Puoi aggiungere i loro punti deboli così da attaccare... Gli attacchi quadrato, X quadrati, gli attacchi speciali e gli attacchi Y con il nemico non in grado di individuarti che svaneranno un colpo critico che infligge ingenti danni fisici. Uh. In pratica l'invisibilità aumenta il critico. Puoi eseguire un potente colpo alle spalle che infligge ingenti danni di annientamento tenendo premuto triangolo mentre sei invisibile e rilasciando una volta caricato. Rafforzare il legame con Kagero aggiungerai altri effetti. Perfetto. Ok. Dov'è? Eccolo qua. Ok. Posso usare solo un'abilità allora. Non vorrei fare la pignola delle balle ma... Vorreste attaccare per favore? Ecco, è scomparso. Ecco fatto. L'invisibilità comunque... Fa un sacco di male. Ma veramente tanto. Ah, è vero, aspetta. Beccati questo! Non avevo ancora provato l'abilità caricata. Eh, sì! Quanto show off! Grazie entrambe. Non c'è problema. Come è stato in questo caso? Eh, no. È vero il cocodrillo? Neanche troppo. Tutti hanno bisogno di una mano. Beh siamo tutti una grande squadra Ci aiutiamo a vicenda Comunque ho capito l'effetto di questa abilità finalmente Ah tra l'altro già che siamo qui Non mi piace Oddio non è che sia tanto meglio eh A sto punto Vabbè dai beccati questo Dicevo ho capito l'effetto di questa abilità qui Due abilità con lo stesso nome Ovvero tu puoi attivare due abilità nello stesso tempo Io per adesso non ho potuto attivare l'invisibilità e la duplicazione Perché posso attivarne una sola E quasi quasi aspetterei di avere quattro punti a questo punto Perché raccogliere gli oggetti a terra A me non è così utile effettivamente Però lo scatto aereo aggiuntivo sembra utile Uh attacco caricato col triangolo Questo sì che è utile Questo è utile è utile invece E qua ti mettono in un punto di difficoltà invece Perché hai da una parte magari un'abilità inutile Che però ti sblocca altra roba è utile Mentre di qua magari è qualcosa che ti permette di aumentare le combo A questo punto magari siamo in giro solo con un supporter Quindi tanto vale girare da questa parte per ora Qua probabilmente è un caso che siamo in giro con due Ma probabilmente gireremo solo con quello elettrico per un po' Certo non è la migliore dell'abilità questa Partiamo da questo presupposto Però Arrivare a questo qua dell'attacco caricato Potrebbe Potrebbe essere utile Proseguiamo Area commerciale livello medio Dopo aver subito un attacco da estranei Ah ok Almeno sappiamo perché è stata abbandonata E non ho visto cosa ha detto del visiogramma però Comunque un'intera città abbandonata Quindi Gli estranei che sono arrivati da questa parte sicuramente erano tanti Per aver abbandonato una città intera Uh altri coccodrilli È seto quello Ovviamente la distrutti tutti da solo Mentre noi in tre ci abbiamo messo No ma va siamo invisibili Attenta Ecco e quando mai Ah grazie E l'ha ucciso con un colpo solo eh Quanto cacchio sei forte tu Oh grazie caghero Effettivamente No sto bene No sto bene Ok Che cosa non c'è Ah Ah niente di che Ah niente di che Ah niente di che Non preoccuparti Sei ancora una recluta È solo un graffio Gli esce tutto un fiume di sangue Eccomi sono qui Ok Ok dirigiamoci allora Dispiace che hai fatto Hai fatto tutto il lavoro tu Devo dire che il tizio qua dell'invisibilità mi piace Vorrei averlo in squadra Però è nella squadra di seto Oh la madonna Un bunker di sicurezza Cos'è una villa questa Col cielo finto Luogo di riposo e rilassamento Eh figa Altro che bunker Fate pure Eh esatto Ok Ok Beh potete usarlo Beh potete usarlo 3 2 1 La madonna Adesso si innamora del capitano Seto Questa Arigato Arigato Questo tizio Mi è simpaticissimo Lo voglio in squadra Sì Anche Nonostante Allora Nonostante La mia vita Nonostante La mia vita Ma Nonostante Nonostante La mia vita Nonostante Ma Ma Ah La mia vita Questa È un'altra Gia Gia Ma Nonostante Nonostante Per Nonostante Nonostante Ma eh, sì, non ti preoccupare Va tutto bene Ah, perché sei adulto tu Beh, effettivamente, sembra più grande di noi E quindi vuol dire che un po' lo tratti male Non c'è problema, tu mi hai salvata Basta che non sporchi il divano, capito? Ah, proprio così No, non l'ho trovato Eh, esatto Però lui è fortissimo, cioè Come capitano è sicuramente superiore alla nostra Oh no, devo andarla a recuperare un oggetto Esatto Eh, sì Non ti preoccupare Andiamo noi a trovarla E non sarà neanche l'ultima Scusami, quando è arrivato l'altro? Scusami, quando è già il giorno dopo? Non l'ho capito Eh, esatto Eh, esatto Siamo degli ospiti Non c'è problema C'è qualcosa che non mi convince In tutta questa situazione In tutta questa storia C'è qualcosa che non mi convince In alcuni personaggi Non c'è qualcosa che non mi sembra Non c'è qualcosa che non mi sembra Eh esatto che senso andare dall'altra parte Storie casane Fase attesa 1 Rifugio è stato aggiunto alla mappa Posso salvare? Puoi tornare al rifugio in qualsiasi momento Così facendo ripesi tutti i PS Non puoi eseguire questa azione se gli spostamenti sono limitati nella zona in cui ti trovi Puoi rafforzare il tuo legame con gli alleati parlando con loro nel rifugio facendo loro dei regali Gli intervalli tra i vari capitoli della storia principale si chiamano fasi d'attesa Questi periodi iniziano sempre nel rifugio e ti permettono di raggiungere liberamente le altre aree Se vuoi passare alla fase successiva della storia controlla il tavolo al centro del salone del rifugio Organizza il gruppo Ah ok possiamo già iniziare a scegliere i nostri compagni Possiamo guardare la tv E dov'è la tv scusami Eh vediamo cosa dice Ma scusami perché i capelli neri nell'immagine qua ce li ha blu Eh ti stai innamorando mi dispiace Oh grazie Ora puoi scambiare oggetti Sono stati aggiunti nuovi prodotti Quando sei nel negozio scambio oggetti ti permette di barattare dati con vari oggetti Ah tutti i dati che abbiamo trovato in giro Potrei ottenere alcuni di questi solo tramite lo scam Ci sono due tipi di dati Dati sugli estranei che otterrai sconvigendo i nemici e dati ambientali che otterrai esplorando il mondo Ok va bene Perché non provi a parlare un po' con seto Pensa c'è l'occasione perfetta Sì è quello che volevo fare Ah guarda ti fa vedere anche con chi puoi fare il legame Perché lui no invece Ah aspetta forse se appare quello rosa vuol dire che è già attivo Lui è in riserva Ah quando siamo nel rifugio possiamo cambiarli Quando invece siamo fuori quello che abbiamo abbiamo certo Beh ti dirò che la squadra già così mi va benissimo Va bene facciamo un salvataggio allora E direi di salutarci qui nel bunker Quindi signori vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Grazie 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 Grazie